Ma chi va fuori? Dobbiamo fare un corteo pacifico per tutto l'edificio. Siamo capiti, i cortei non stanno scherzando, allora guardate, se voi violate la legge, la forza sta con voi, tutti quelli che vanno nella solidarietà ci sta, però la legge non dovete violarla. Perché stavo violando? Allora, mi sto dicendo. Ma come dato è quello di cantare in fuori qualche slogan? Ma non è un problema, ma ho detto qualcosa quando stavate dentro, ho detto dentro, ho detto... L'obiettivo è quello di bloccare le convocazioni, non deve essere di parlare con il progetto. Forse non ci sia come, no, lo bloccherò le convocazioni, ci sta l'arresto. Ci sta l'arresto. Gli impiegati si stanno... Gli impiegati si stanno... Non è la convocazione rispetto ai saluti. L'arresto sta tutto per la convocazione, sicuramente. No! 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 Poi da so... E arrisciò per la mia famiglia. L'arresto sta tutto per scopertare le convocazioni. Quando c'è lo officina! No! Non c'è l'arresto! No! Che indescrizione. … Che c'è l'Usholi, che c'è l'Igarra sale!